Buongiorno amiche carissime bentornati per una nuova puntata di Don Leonardo risponde buona santa serata a Maria a tutti cominciamo subito con le risposte alle domande che già abbiamo visto qualcuna per cui procediamo subito dalla prima partendo dalla prima Titti Bruni chiede carissimo Don Leonardo a volte penso che la croce sia l'unico modo per essere uniti al Signore per metterlo al primo posto possibile è la gioia che posto ha grazie Padre ma diciamo che la croce bisogna correggere un pochino diciamo la formulazione di questa frase la croce il discorso sulla croce è un discorso che va ben circostanziato premesso che se tutte cante le cose fossero andate come Dio voleva che andassero noi alla croce non avremmo neanche saputo che cosa sia d'accordo perché Dio non ha creato né la morte non gode per la rovina dei viventi né tantomeno gode a piacere che noi soffriamo in nessuna forma possibile nemmeno di quelle stesse sofferenze che sono sulla divina volontà e conseguenza del nostro peccato originale come per esempio il lavoro quindi per quanto dipende da Dio la sofferenza noi non avremmo dovuto neanche sapere che cosa significa purtroppo l'umana volontà con il peccato ha fatto entrare il male nel mondo e quello che ci ha rivelato Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo è che il rimedio del male è la croce quindi la croce è un male nel senso che è una cosa che ci fa soffrire quindi è un male fisico come si dice in termini tecnici che però è volto alla distruzione del sommo male che è il male morale che è il peccato quindi senza la croce non si toglie il peccato del mondo non si riparano le conseguenze del peccato non ci si libera da tante brutte abitudini, vizi e cose di questo genere ecco perché Dio vuole in questo senso la croce ed ecco perché Gesù è stato categorico nel Vangelo non si deve e non si può pensare alla croce in termini solo ed esclusivamente negativi quindi solo in termini di sofferenza e di dolore perché la croce salva quando è accolta e abbracciata con amore o quantomeno con un minimo di rassegnazione insomma quindi non è il dolore che ci salva ma è il dolore accolto e vissuto appunto con amore avendolo illuminato e quindi essendo addirittura capaci per quelli che sono più bravi di rodare, di ringraziare e benedire Dio nella croce e per la croce nonostante la croce quindi questo perché? perché la gioia rappresenta sotto questo punto di vista cioè noi siamo uniti quando siamo uniti con Dio sperimentiamo già in questo mondo la gioia vera è l'anticipo della felicità quindi nella domanda che ha fatto Titti Bruni sembra che la croce sia sofferenza e morte invece la gioia sarebbe un'altra forma distinta non è proprio così ecco perché la croce illuminata è gioia d'accordo? quindi anche la croce non è dolore barbaro diciamo così è dolore cieco, dolore crudo e tutte quante le cose poi che il Signore ci dona in grazia spirituale o cose belle della vita certamente se nella misura in cui si impara ad accoglierle e a recepirle come doni e atti del suo amore della sua divina volontà certamente anche quelle divengono fonti privilegiate dell'unione con Dio chi conosce un pochino la divina volontà sa che la divina volontà completa un po' diciamo così l'orizzonte ascetico classico tradizionale dove grande importanza avevano e danno tuttora le virtù il combattimento contro il peccato contro i vizi quindi la mortificazione e la penitenza ma in questo orizzonte l'accoglienza e la scoperta di tutte le fonti immense tuttora aperte di gioia e di esperienza viva dell'amore di Dio non solo che sono da dover prendere ma è una cosa assolutamente lodevole quindi c'è un benessere di vita che certamente contribuisce anche questo a vivere meglio le inevitabili croce che sempre come atti di amore il nostro signore ci manda ma per il nostro bene e per la nostra salvezza Giamma Laurenti scrive un tema di rado posto all'attenzione dei fedeli dai sacerdoti del raccoglimento prima della Santa Mese e del silenzio della preghiera subito dopo posso provare a sensibilizzare il mio ottimo parroco allora questi temi certamente è importante viverli e scoprirli quindi la prima cosa da fare mano a mano che se ne interiorizza l'importanza è cominciare a viverli i poveri parroci purtroppo pur essendo consapevoli della loro importanza io lo capisco non sempre trovano la possibilità per tante cose di poter fare un adeguato tempo di preparazione e un adeguato tempo di ringraziamento non voglio insomma come dire sembrare che questa non sia una cosa importante comprendo però che a volte non sempre a volte non subito si riesce a come dire organizzare bene il tempo per fare in modo che alcuni momenti e questi sono importanti siano blindati io da parroco posso assicurare che la vita insomma non tanto in una piccola parrocchia come quella a cui io non sto ma se oggi stesse uno con 30.000 abitanti e una cale tirata insomma o con certe situazioni sono due tre quattro parrocchie cioè come dire in queste condizioni può diventare come dire difficile no vede Gian Maria Gian Malaurenti sensibilizzare non parlo su questa cosa è un'operazione che si potrebbe in teoria anche fare però occorre avere molta molta cautela e attenzione perché ogni sacerdote più o meno sa questa cosa quindi se poi non so se lei può essere certo insomma di questa cosa perché potarsi che un sacerdote faccia la preparazione alla santa messa in camera sua quindi che non lo faccia diciamo così pubblicamente in chiesa o anche dopo ringraziamento magari per non essere disturbato se ne sale in camera sua a fare il ringraziamento questo in certi contesti ci può stare anche questo quindi ci vuole in ogni caso una straordinaria delicatezza non si può andare a fare un improvero diretto insomma a un parroco su questa materia perché credo che a meno che non c'è davanti proprio un santo da canonizzazione immediata cioè ne risulterebbe urtato d'accordo perché insomma è una cosa insomma che se uno è capace di fare un discorso molto prendendolo per la larga quindi parlando molto molto in termini generali sulla bellezza del silenzio prima della messa del ringraziamento dopo ma senza dire tu non lo fai cerca di farlo quindi che ripeto bisogna proprio tra l'altro avere anche le proprie oggettive e in ogni caso insomma andare a fare un rimprovero diretto su questa cosa capito cioè io non so se un parroco se lo prenderebbe nemmeno dal vescovo insomma quindi non lo so se lo prende da un da un fedele laico bisogna sempre fare molta molta attenzione io invito sempre a non giudicare perché ripeto ci possono essere sorprese quindi magari quel sacerdote non ha modo magari deve stare in confessionale magari non so e magari si prepara un'ora prima cioè ha delle sue forme particolari quindi è sempre un pochino complicato se lei ha coperto l'importanza di questa cosa faccia in modo anzitutto di farlo lei dieci minuti un quarto di preparazione alla messa e poi un tempo di ringraziamento quindi ecco spero di essermi spiegato insomma quindi anche nel fare il bene nel perseguire il bene dobbiamo fare sempre attenzione che a usare mezzi forme e modalità opportune insomma perché a volte io ho imparato una cosa nella mia esperienza di sacerdote questo è un pochino liberante anche per noi stessi anche per me io una volta pensavo di dover quasi come dire forzare le persone a diventare sante d'accordo perché era come se mi sentissi io come dire responsabile forse per una eccessiva interiorizzazione diciamo così del ruolo del sacerdote come strumento per la santificazione altrui della santità altrui questo è un po' troppo d'accordo perché se uno entra in questa dinamica poi che succede che se ti trovi davanti le persone che sante non sono come dire gli hai diri il collo questo non va bene questo qui nel senso che ciò che tutti noi dobbiamo fare un sacerdote più degli altri è favorire come dire un certo processo di crescita di acquisizione di elementi che in coscienza poi ti portino a maturare e ti portino a te a fare delle scelte fatte in un certo modo no perché Dio stesso rispetta la nostra libertà in maniera come dire tassativa e quindi nessuno di noi è più grande dell'altissimo e quindi certamente deve trovare sempre dei modi di porsi e di proporsi che al tempo stesso siano stimolanti anche molto stimolanti a volte anche 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 molto come dire super stimolanti però senza esagerare quindi senza come dire andare a fare una sorta di quasi aggressione che la persona insomma poi anziché convertirsi si rigidisce si chiude ancora ancora di più ecco queste sono cose che ho maturato lentamente insomma nel corso del tempo quindi tutti siamo presi dal desiderio noi vorremmo che tutti quanti fossero amici di Gesù che fossero santi pensiamo anche a tante mogli che i mariti non li seguono in chiesa oppure genitori che i figli si sono un pochino allontanati noi stanno angosciati tutto comprensibile ecco però il problema è che dinanzi a queste cose le vie che noi possiamo percorrere e che dobbiamo percorrere sono vie che però devono essere propositive quindi che aiutano che offrano stimoli nel rispetto però della libertà delle scelte che fanno le altre persone che sono le loro d'accordo né noi dobbiamo sentirci responsabili né possiamo scavalcare come dire la necessità che ognuno faccia le proprie libere scelte quindi un parroco ancora di più ecco scusatemi se mi sono dilungato su questo Iurlei GM scrive Leonardo buonasera le penitenze che danno dopo la confessione si possono cambiare ma di proprio arbitrio sicuramente no perché se l'imposizione della penitenza è un atto come dire che dipende dall'autoritas del ministro di Dio e quindi una volta che è accettato dal penitente ed è accettato tacitamente perché se se viene imposta una penitenza che la si ritiene troppo gravosa o che non si può eseguire il penitente subito deve dire scusi padre tu mi hai dato la metodità di un rosario io il rosario non l'ho mai detto in vita mia non so se ce la faccio quindi se mi conferma sta penitenza poi se non ce la faccio mi fa un peccato grave insomma quindi se può darmi un'altra cosa la ringrazierei quindi se c'è una penitenza eccessivamente gravosa è necessario dirlo in sede sacramentale adesso qua qui ci vorrebbe il mio amico Don Pierpaolo che non è qui in camera con me credo ma non ci mettete la mano sul fuoco che facendo un'altra confessione si potrebbe come dire avere una commutazione di penitenza da altro confessore non sono tanto sicuramente se non andassi dal penitenziere senza nessun problema credo che i parroci abbiano anche la possibilità di fare questa cosa sicuramente lo stesso sacerdote potrebbe fare la stessa cosa vedo qui però entra in ballo anche la normativa canonica su cui io mi dispiace ma come dire non sono tanto tanto esperto quindi credo di sì sicuramente mai di libero arbitrio fatte da un come dire da da penitenze stesso questo è sicuro questo qui ecco un altro sacerdote credo che potrebbe farlo avendone la potestà canonica quindi credo che un parroco che ha potestà canonica sui suoi sudditi che così si chiamano tecnicamente possa fare una cosa di questo genere però prendete queste cose quando si entra in domande tecniche cioè molto molto tecniche perché qui ricordate sempre che io sono specializzato in teologia dogmatica quindi ogni tanto lo dico non in diritto canonico non in liturgia neanche in sacra scrittura non in teologia morale quando sono state fatte le domande sulle donazioni degli organi e tutte queste cose qui è chiaro che un sacerdote più o meno c'ha un infarinato io diritto canonico l'ho studiato nel primo ciclo ho studiato liturgia ho studiato morale ma non capito un contesto è specializzato con approfondito bene una disciplina e quindi diciamo in linea di massima salvo i limiti propri della natura umana e le defaianze della memoria sa quello che dice però i tutologi non esistono neanche in campo ecclesiastico bisogna sempre avere la consapevolezza insomma dei limiti delle approfazioni io non mi vergogno insomma di dire questa cosa qui perché capite cioè se uno va dal medico della mutua il medico della mutua insomma ha una sua competenza ma se c'è un tumore di andare all'oncologo l'oncologo lo fa l'oncologo l'ortopedico non è capace a fare l'oncologo d'accordo certo che sa cos'è un tumore d'accordo e te lo sarà forse anche diagnosticare come sapere un medico di base ma non fa l'oncologo quindi poi non è in grado insomma di intervenire adeguatamente così capiamo anche un po' le dinamiche io più tempo passa più ho un po' paura dei tutologi cioè di quelli che parlano alla grande di tutto e di tutti insomma penso che ci voglia sempre un po' di senso del proprio limite insomma cerchio per carità di dare il massimo aiuto possibile ma certamente nei limiti delle proprie possibilità e competenze Vincenzo Trafi scrive Leonardo sa come si è pronunciata la Santa Madre Chiesa circa l'apparizione della Santissima Vergine Maria in San Pietro il 27 marzo nella supplica di Paolo Francesco Vincenzo io ho seguito tutta quanta quella preghiera e sinceramente non ho visto nessuna Madonna apparire il 27 di marzo a San Pietro quindi non ho mai sentita questa storia non so se gli altri amici sappiano questa quindi addirittura la Chiesa si pronunci su una cosa di questo genere insomma non saprei proprio cosa dire non saprei proprio cosa rispondere ma non mi risulta che ci sia niente di ufficiale dentro la Chiesa Cattolica ma neanche che si parli di questa cosa dentro la Chiesa Cattolica insomma adesso poi non lo so se c'è qualcuno che ha fatto qualche ripresa o qualche cosa dove magari pensava di vedere dietro qualche non lo so mi dispiace Giovanni Rau scrive Maria è possibile utilizzare i video delle sue meditazioni con orazione mentale o bisogna fare la ben nota procedura in silenzio da soli allora se è un video di una meditazione io generalmente durante la meditazione certamente in forma ristretta perché altrimenti io faccio queste cose ripeto le faccio volentieri perché mi è stato chiesto insomma da più di qualcuno di mettere in comune i frutti delle meditazioni soprattutto perché vertono sul libro di cielo che molti hanno desiderio di meditare non sempre riescano a farli da soli non sempre riescano a comprenderli e allora qualcuno mi chiese questa cosa diverso tempo fa qualcuno poi momentò e io ho accettato insomma di fare questa cosa anche se ovviamente durante una meditazione io non riesco certamente a puntare la telecamera su me stesso qualcuno si lamenta che durante le dirette si vede dell'inquadratura dell'immagine della madonna ma insomma per me io sto pregando in quel momento lì quando uno prega cioè non è come quando sto parlando con voi adesso in una trasmissione interattiva quindi non non mi piace insomma essere ripreso quando sto pregando né essere guardato quando sto pregando quindi già poi io non ho fatica comunque in un contesto di meditazione io faccio la preghiera di preparazione certamente quindi chiaro che se uno deve sentire una meditazione può anche e sarebbe bene che lo facesse se la sente in diretta comincia 5 minuti prima se la sente in differita la fa da solo se vuole utilizzare veramente come preghiera come dovrebbe essere quel tempo di meditazione anche perché dopo terminata la meditazione faccio un breve silenzio che evidentemente per chi ascolta soprattutto in differita ma può farla anche in diretta senza poco interrompere perché dopo faccio una piccola preghierina conclusiva e si può propongare quindi diciamo che nella meditazione è seguita diciamo così la struttura dell'orazione mentale cioè presenza di Dio quindi l'atto di unione di una volontà poi l'invocazione della sua assistenza e del suo aiuto per la meditazione la mia Maria e poi insomma anziché fare il silenzio essendo comunque un momento diciamo così è capito faccio un piccolo canto insomma in introduttorio che aiuta un pochino ad entrare in preghiera poi c'è la lettura la meditazione poi c'è il silenzio e poi c'è l'orazione conclusiva e chiaramente io ho sempre avvertito che dalla termine della meditazione in poi bene sarebbe una personalizzazione perché la meditazione poi termina con il dialogo e con la preghiera che sgorga dal cuore di chi ha meditato e che è personale d'accordo quindi è evidente che per chiudere la meditazione come meditazione faccio un breve silenzio e una preghiera alla Madonna conclusiva più la benedizione essendo un sacerdote no? è evidente che in quel tempo poi chi vuole fare bene l'orazione mentale lo dovrà divere personalizzandolo questo è chiaro no? allora Diego 3D 86 buonasera Donardo che differenza sia tra libertà e libero arbitrio grazie in anticipo questa è una bella domanda Diego 3D a cui rispose bene Sant'Agostino perché Gesù ha detto nel Vangelo che se rimanete fedeli alla mia parola sarete davvero miei discepoli conoscerete la verità attenzione la verità vi farà liberi allora quindi vuol dire che la libertà per essere reale ha bisogno della verità il libero arbitrio no? in linea di massima hanno una caratteristica comune no? sia libertà che libero arbitrio cioè la possibilità di scegliere tra due o più alternative riguardo una certa cosa ok? questo è ciò che è costitutivo proprio del nostro essere umano quali sono le alternative? nel caso del libero arbitrio l'alternativa è una cosa buona e una cosa cattiva per esempio sono fidanzato castità prematrimoniale o rapporti prematrimoniali se scelgo castità prematrimoniale ho utilizzato il libero arbitrio bene se scelgo rapporti prematrimoniali ho utilizzato il libero arbitrio male la libertà non è la possibilità di scelta tra una cosa buona e una cosa cattiva ma tra due cose buone quindi la libertà è la possibilità bella di esercitare questa facoltà cioè e ho un'ora disponibile che faccio durante quest'ora? dico un rosario andate a farmi una passeggiata e ascolto un po' di musica rilassante vedo un programma bello ed edificante faccio una telefonata a un amico vado in chiesa ho detto sei cose che certamente non sono tutte sei allo stesso livello ma sono tutte sei cose lecite o buone qui si esercita la libertà d'accordo? è chiaro quindi la libertà è la scelta tra più beni possibili una cosa può essere lecita una cosa può essere buona una cosa può essere migliore una cosa può essere ottima il libero arbitrio è tra bene e male questa è una cosa a cui bisogna fare molta molta attenzione adesso per esempio è estate abbigliamento in chiesa e fuori della chiesa ci sono delle norme al di sotto della quale si scende sotto il lecito e poi al di sopra delle quali uno sceglie d'accordo? si può andare in chiesa in maniche corte? tanto per fare un esempio molto molto allora nell'attuale contesto culturale le maniche corte a differenza di un tempo non sono considerate mancanza alla modestia e al decoro cioè alla decenza più che altro ok permane però come dire un certo un certo sentore che meglio sarebbe non scoprire le braccia quindi che significa? che se uno va a maniche corte va bene se si sente ha interiorizzato questa cosa di fare questo sacrificio un pochino più grande e lo fa per amore di Dio per un maggior senso di decoro tanto meglio per lui d'accordo? se uno va in canottiera libera arbitrio d'accordo? si è utilizzato male perché in canottiera in chiesa non si entra d'accordo? ecco quindi questo è importante perché noi dobbiamo anche saper discernere il bene dal male perché il male non deve essere fatto per nessun motivo e poi il lecito abbiamo sentito il Vangelo di Domenica dice il seme che cade nella strada produce 30 sarebbe illecito 60 sarebbe il buono 100 sarebbe l'ottimo chi vuole diventare santo mette la quarta mette la quinta va sul perfettissimo sotto tutti i punti di vista non si accontenta del lecito d'accordo? ecco però chi si accontenta del lecito va bene insomma no? ok facciamo un altro esempio ancora una famiglia cristiana non usa la contraccezione non può usarla ma se vuole regolare le nascite come dire distribuire la vita le nascite della vita in base a considerazioni che comunque la coppia ha la possibilità di fare utilizzerà i cosiddetti metodi naturali d'accordo? se una famiglia sceglie liberamente in coscienza di aprirsi generosamente alla vita e quindi dice al Signore bene a meno che insomma non sia una pazzia nel senso cioè se siamo due disoccupati dieci figli non si possono fare o due disoccupati insomma meno che uno non si sono d'accordo perché poi bisogna sempre come dire avere quell'equilibrio che faccia che faccia discernere come dire la fede come dire quando poi non diventa in coscienza anche se insomma questo qui insomma ce ne vuole ho fatto un esempio volontariamente estremo due disoccupati con dieci figli perché poi insomma le cose spesso sono più semplici di come noi ce le immaginiamo però queste cose qui devono essere interiorizzate d'accordo nel senso che l'apertura generosa alla vita è una cosa migliore è una cosa che attiene alla santificazione della famiglia e degli sposi Dio la ricompenserà porta con sé tantissime grazie la soglia sotto la quale non si deve scendere è quella che passa alla contraccezione come dire come atto volontario in tutte quante le sue forme spero di essere stato chiaro possiamo anche con gli esempi penso che possiamo andare avanti Loris Leone buonasera donna è possibile laurearsi prima e poi intraprendere la strada del sacerdozio se sì la prima laurea che importanza avrebbe beh ci sono tanti laureati insomma che che intraprendono successivamente la strada del sacerdozio è evidente che sarebbe una cosa sciocca come dire laurearsi quando già si ha l'intenzione finito il liceo di fare il sacerdote cioè le persone che sono laureate e che poi fanno il sacerdote vuol dire che è una scelta che hanno maturato dopo la laurea o verso il termine del corso di laurea perché se uno arriva che ti mancano uno o due esami e vuoi entrare in seminario qualunque persona saggia ti dirà fai due esami e fai la tesi di laurea e poi entri perché evidentemente no? tu entri in seminario ma non è che il giorno dopo diventi prete quindi se esci è da folle che hai capito aver lasciato un corso di laurea dove ti mancano due esami quindi non si fanno queste cose qui no? quindi è chiaro che se la persona ha già delle prospettive vocazionali maturate a 18-19 anni sarebbe una cosa senza senso insomma che fa l'università prima se la vocazione la percepisce verso la fine del corso di laurea o dopo ne prenderà atto dopo e la laurea non è che non ci fa niente la laurea comunque ce l'ha è un titolo di studio che ha ha contribuito ad aprire il cervello su tante cose e quindi niente di quello che noi facciamo è inutile e quindi certamente non bisogna ripeto farlo diventare inutile a priori perché se io a 18 anni sento la vocazione e dicono prima faccio giurisprudenza e poi entro al seminario è un discorso che non va bene insomma perché quando noi abbiamo chiaro quello che dobbiamo fare prima ci mettiamo a farlo e meglio è allora scusate sto scorrendo M.P.Zara come si concilia la divina volontà con la preghiera di intercessione non capisco molto bene questa domanda la preghiera di intercessione è cosa raccomandata da Gesù stesso dal Vangelo dal Nuovo Testamento per cui la preghiera di intercessione è cosa voluta da Dio ci sono alcune grazie che per volontà divina dipendono dal fatto che vengano richieste la Madonna Fatima disse fece vedere l'inferno ai pastorelli c'è tanta gente che va all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifichi per cosa cioè non solo la preghiera anche il sacrificio fatto per il bene degli altri ma questo è disposto dalla divina volontà quindi Dio vuole che si faccia questo quindi non riesco a comprendere il senso di questa domanda né a come dire a a immaginarmi cosa nel cuore di questo fratello di questa sorella di questa figliola di questa figliola ci possa essere quando pensa a questa cosa perché è evidente che la preghiera è espressione di divina volontà a questo forse riguarda la presunta apparizione c'era una nuvola con una forma un po' particolare ma sì io non vorrei adesso scandalizzare nessuno insomma ma io insomma stare alle nuvole e queste cose un po' un po' un po' così cioè io ci credo profondamente infinitamente alla Madonna e credo profondamente insomma a tutto il bene che sta facendo attraverso tante apparizioni riconosciute o in via di riconoscimento insomma non voglio dire alcune insomma sono abbastanza attendibili anche se ancora non riconosciute però insomma proprio come indole di il cielo mi perdoni io mi rimangio tutto se questo è sbagliato però come mia sensibilità personale non mi sento molto incline insomma si vede una cosa insomma lo sapete insomma le nuvole è quanto di più evanescente se uno fissa qualche cosa cioè non è difficile scorgere le forme ogni tanto anche sui marmi per esempio sui marmi delle mie chiese c'è la faccia di quello quello sembra il diavolo quello sembra quell'altro dico ma non lo vedi cioè dopo è chiaro che se uno c'è qualcuno che ti cioè se tu dai cioè vedendo una cosa ci appiccichi sopra una certa immagine puoi anche come dire però non credo che chi ha fatto il marmo voresse fare la presentazione simulata del diavolo speriamo insomma cioè tutto è possibile no capite però si entra nell'ambito delle come dire delle delle possibilità potenzialmente infinite no ecco don leonardo grandissimo buonasera potresti spiegarci probabilmente la questione della confiteor è vero che uno stesso peccato è mortale commesso una terza volta non merita assoluzione a numero uno Marco la questione della confiteor detta in questi termini io non so le confesso candidamente di cosa stia parlando sulla questione del terzo peccato mortale commesso una terza volta questa è una frase che disse padre Pio è evidente che tutte queste cose bisogna cogliere come dire la sostanza di questo di questo uso severo che aveva padre Pio e anche però il contesto come dire storico storico religioso in cui ha vissuto e operato attenzione qui si parla di peccato mortali peccato mortale significa che la persona l'ha commesso con piena avvertenza e deliberato consenso cioè sa bene che è un peccato mortale quindi non ha dubbi su questo liberamente volontariamente sceglie di farlo su materia che sa essere grave quindi lo sa che sta offendendo gravemente il nostro signore allora che cosa significa siccome Dio la misericordia di Dio non può mai diventare una sorta di autorizzazione al peccato San Paolo ha detto anche a nessuno è stato dato il permesso di peccare io non posso sta scritto nel libro sapienziale dire non dire Dio è misericordioso così da aggiungere peccato a peccato cito proprio testualmente non mi ricordo se era il Siracide o qualche altro libro sapienziale no quindi non bisogna provocare la divina misericordia o abusare della divina misericordia per cui ripeto quando si tratta di un peccato mortale mortale quindi percepito come tale dalla persona anche quindi non soltanto da un punto di vista oggettivo la recidiva in esso senza alcun miglioramento senza alcun progresso senza che il penitente dimostri che almeno ci sta provando che fugga le occasioni tutte queste cose reiterando nel tempo a prudente giudizio del confessore può portare non a non assolvere ma evidentemente in certe situazioni del tutto circostanziate se è il caso e con tutte le debiti di attenzione come dire a un differimento della soluzione cioè il confessore potrebbe dire al penitente guarda facciamo così perché tu possa stare più tranquillo anche davanti a Dio fai 15 giorni di vita buona seccati frequentemente in questo peccato e quindi provati mettiti alla prova dimostra al Signore che stai combattendo dopodiché ricevi la soluzione quindi questo si può si può fare quindi però anche queste qui sono cose che vanno sempre pregate per i confessori perché oggi come oggi nel mutato contesto storico culturale cioè uno deve anche capire bene chi c'ha davanti perché oggi la gente non si confessa più capite per cui già che te vengano a dire certe cose in confessione è un mezzo miracolo quindi un conto sono i discorsi come dire teorici cioè uno deve spiegare il concetto d'accordo e il concetto certamente è questo cioè la misericordia di Dio non va provocata e non deve diventare uno un incentivo paradossalmente al peccato cioè questo diventa una beffa questo diventa un irridere nostro signore e Dio non si deve irridere però oggi bisogna anche il confessore deve stare molto attento a chi c'era avanti e calibrare ogni intervento specialmente quelli un pochino severi con estrema attenzione alla luce delle condizioni soggettive del penitente che si trova davanti vi assicuro che non è una cosa semplice quindi vi prego di pregare per tutti i confessori lavori online paganti buonasera Leonardo nel credo cosa si intende per la risurrezione della carne se l'anima giù dopo la morte va in purgatore inferno paradiso cosa serve per suscitare i corpi figlio mio o figlia mia noi non siamo anime disincarnate noi siamo uomini d'accordo Gesù Cristo è diventato vero uomo Gesù Cristo non è apparso come un fantasma il mio essere è stato creato per essere immortale non nell'anima ma io sono io come la mia integrità integralità di anime e di corpo qui la morte è una cosa gravissima perché il corpo che io abito nella terra si troverà in condizione di cadavere quindi tornerà polvere quindi cioè questa non è evidentemente una situazione possibile ecco tra l'altro perché tra l'altro le cose che Dio Crea non si risolvono nel nulla e quindi siccome l'uomo è uomo certo che il principio della salvezza è l'anima perché perché il corpo come dire ha delle sue norme di funzionamento autonome ma che sono del tutto come dire indifferenti da un punto di vista morale cioè il mio cuoricino se fa il bravo fa circolare bene il sangue ma questo lo fa da solo in ottemperanza delle leggi stabilite da Dio e non può non farlo e viceversa essendo io un essere umano la mia umana volontà può scegliere se fare il bene o fare il male come abbiamo spiegato prima al nostro amico quindi libera il birrio quindi se voglio si verso il bene e se si volge verso il male pecca e se si volge verso il male produce il male e trascina verso il male l'anima e il corpo per cui risorgeranno i beati risorgeranno anche i dannati d'accordo perché il premio e o la retribuzione saranno perfetti saranno soltanto una cosa spirituale dell'anima ma anche del corpo cioè il corpo è creato da Dio più o meno è come l'anima e quindi cioè la Madonna in cielo sta col suo corpo santissimo la Madonna non è passata neanche per la corruzione per la morte quindi la Madonna non è un angelo come dire con sembianze femminili la Madonna è una donna d'accordo così come Gesù Cristo è un uomo maschio d'accordo dall'altra parte stare attenti che a tutte le sciocchezze che si dicono oggi in giro non ci stanno non ci stanno che stanno maschi e femmine d'accordo ecco Nicola Vedda scrive è peccato nascondere qualcosa ai genitori è peccato nascondere qualcosa ai genitori se si tratta di qualcosa evidentemente di male che i genitori dovrebbero sapere che non si dovrebbe fare d'accordo se uno nasconde ai genitori non lo so che che ha fatto un gioco lecito con un suo amichetto che ha giocato al nascondino non fa niente insomma ecco ma se uno nasconde ai genitori che non ha fatti i compiti è evidente che nascondere questa cosa non è una cosa buona perché generalmente si nascondono le cose di cui uno si vergognerebbe un pochino o ha timore di essere scoperto ecco ai genitori le cose si possono nascondere ma il nostro signore insomma no quali doveri ci sono per chi prende lo scaporale del Carmine allora tutti quelli che sono tecnicamente dovuti non li conosco perché bisogna parlare di queste cose con i padri carmelitani portando addosso un oggetto di devozione evidentemente il dovere che si ha è di vivere una vita cristiana dignitosa decente essendo poi quello un gesto di particolare riferenza mariana sarebbe opportuno aggiungere qualche pratica di devozione mariana c'è una cosa particolare legata allo scapolare che è il privilegio sabatino io adesso non ricordo tutte quante le cose che bisogna fare per lasciare credo che online si trovino queste cose oppure parlare appunto bene e approfondire bene il discorso con un padre carmelitano faccendi domenici gregis chiede un attimo che buonasera don leonardo se uno ti dimentica di dire un peccato in confessione e poi si ricorda ha perdonato quel peccato lo deve dire nella seguente confessione dipende se è un peccato mortale in base a quanto afferma il concilio di trento bisogna dirlo se è un peccato veniale non è necessario ripeterlo nella confessione seguente perché la confessione copre i peccati dimenticati ma a quanto si legge nel concilio di trento qualora tornino alla memoria alcuni peccati gravi c'è l'obbligo di confessarli in una confessione successiva fermo restando che se si sono dimenticati per dimenticanza evidentemente non bisogna come dire agitarsi cioè non è che io mi sono scordato un peccato e l'ho realmente scordato perché noi sappiamo se l'abbiamo realmente scordato o se facciamo finta di averlo scordato se ho fatto finta di averlo scordato non mi devo fare la comunione d'accordo perché la confessione che ho fatto è invalida se me lo sono scordato veramente la confessione è valida la soluzione reale salvo l'obbligo quando mi torna in mente di dirlo alla confessione seguente adoro te fonte di vita la Maria di Leonardo in una situazione di immoralità di oggi cosa consiglierebbe ai giovani che sentono vivere l'evocazione al matrimonio come è possibile costruire una famiglia santa oggi tutto è possibile per chi lo vuole e usa i mezzi oggi è semplicemente un pochino più difficile ma insomma io conosco tante persone conoscevo e conosco che hanno fatto hanno intrapreso un fidanzamento santo è chiaro che per fare una famiglia santa bisogna innanzitutto cominciare a dare basi bisogna avere un fidanzamento santo io ho scritto degli articoli sul mio blog c'è proprio un articolo che si chiama il fidanzamento santo qual è il fidanzamento santo? il fidanzamento santo è un fidanzamento vissuto anzitutto da parte di entrambi nell'amicizia con il Signore quindi coltivando la conoscenza sempre maggiore di Dio la preghiera magari anche la preghiera insieme la vicinanza ai sacramenti eccetera facendo la scelta della purezza perché come ho state volte raccontato il fatto che ci sia stata la rivoluzione sessuale possono fare tutte quante le rivoluzioni che vogliono ma la legge di Dio non si muove di un millimetro quindi quello che era male fino a prima del 68 è male anche dopo perché durante il tempo del fidanzamento se uno non vuole scendere troppo in particolare c'è un confine tutti quanti i gesti che servono a manifestare affetto e amore come dire non erotico sono tutti quanti possibili appena si comincia a spostare l'asse della bilancia verso l'eros e la libidine percepita diciamo così anche a livello fisico non ci vuole la scienza infusa per capirlo ci si deve fermare perché si sta andando oltre i limiti della purezza prematrimoniale dopo c'è un'altra cosa però ancora più importante cioè non è non ancora più importante una terza cosa i ragazzi devono imparare a starsi vicino come persone cioè devono imparare a rispettarsi sempre non si manca di rispetto alla persona che sta vicino mai non si prende a parolace si impara ad ascoltare si impara a dialogare si deve avere stima di chi ti sta vicino considerazione si deve parlare dei propri progetti di vita della propria visione di famiglia come regolarsi in futuro con tante questioni da un punto di vista lavorativo che tipo di indirizzo dare ai figli quanti averne educarli quindi cioè non sono cose questi qua che si improvvisano sono cose che si maturano d'accordo? e durante il tempo del fidanzamento se uno sente la vocazione al matrimonio quel tempo è finalizzato semplicemente a comprendere se la persona che ho dinanzi è quella che Dio mi ha messo davanti per farci insieme una famiglia santa e per trascorcerci una vita insieme questo oggi ma tanto di moda il termine sfida ma questa è una grande sfida ed è una sfida da accogliere e da vivere perché tutto è possibile per chi lo vuole d'accordo? ecco evidentemente questo discorso potrebbe essere approfondito all'inverosimile quindi hanno risposto a una domanda ma su questi temi non ci ho parlato talmente tanto insomma che sia per iscritto nel blog che per catechesi su catechesi insomma si può approfondire variamente buonasera carissimo Leonardo la comunità di San Pio X è in comunione con la chiesa cattolica e bella domanda una comunione certamente non piena non piena sicuramente non piena da un punto di vista canonico d'accordo perché la fraternità di San Pio X non ha una ancora conformazione giuridico-canonica nella chiesa diciamo che da un punto di vista sostanziale adesso è stata la remissione delle stesse comuniche loro si definiscono pienamente cattolici in perfetta comunione con la chiesa papa compreso il problema è che hanno delle riserve diciamo così di natura dottrinale su alcuni aspetti del concilio Vaticano II che loro non riconoscono quindi questo certamente come dire causa dei problemi quindi non si può parlare di perfetta comunione d'accordo perché i concili nella chiesa sono 21 e l'integrità di un concilio in quanto tale non può essere messa in discussione cioè in quanto poi gli intenti le operazioni che sono state fatte le strumentalizzazioni a priori o a posteriori questi sono un altro discorso e se su questo ci sono delle pecche vanno combattute vanno evidenziate e vanno ricalibrate d'accordo e nessuno insomma nessuno credo che nessuno si scandalizzi quando insomma si faccia presente insomma che ci sono stati problemi insomma con il famoso spirito del concilio e tutte le altre cose che sono uscite fuori però bisogna sempre distinguere come dire i livelli e gli ambiti d'accordo quindi queste cose sono ancora in attesa di di composizioni ecco francisco 1999 dice buonasera cosa succede a una persona che non fa la volontà di Dio vivrà infelice grazie bravo 10 e lodea una persona che non fa la volontà di Dio sicuramente vivrà infelice infelice questa è proprio la risposta migliore vivrà sicuramente infelice può attraversi tutti i soldi che vuole tutto il successo che vuole tutte le donne che vuole tutto il potere che vuole tutte le carriere che vuole le professioni che vuole ma vivrà infelice bravo francisco 1999 non ho altro da aggiungere a quello che hai scritto bene Gisella scorza favi se una persona pur provandoci e pregandoci sopra non riesce a credere nel Dio di Gesù Cristo come si può fare e questa è una domanda un pochino rispondere a questa domanda in linea teorica è molto difficile quindi se si tratta di lei figlia cara le consiglio di di farsi un po' di sane chiacchiere sante chiacchiere con il suo parro con lo sacerdote di sua fiducia quindi bisogna un attimo vedere bene cosa c'è nella sua vita nella sua storia nella sua nel suo modo di porsi nella sua umanità nella sua psiche ferite cose cioè comprendere da che cosa possano dipendere alcune remore no? perché possono cioè il discorso di questo genere è potenzialmente come dire infinito se si tratta di una persona estranea cioè allora la conversione è un dono cioè Gesù nel Vangelo dice nessuno può San Paolo scrive nelle sue lettere non Gesù nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo d'accordo quindi quando c'è una cosa di questo genere bisogna vedere se ci sono degli ostacoli dipendenti da certe strutture mentali esistenziali che la persona si porta dietro oppure se non c'è ancora la grazia di credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio d'accordo perché credere nel Dio di Gesù Cristo e credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio è sicuramente la stessa cosa e quando questo non c'è bisogna pregare cioè per la conversione di chi non conosce ancora la vole di Dio bisogna innanzitutto pregare no? Andrea Battimiero 99 padre le chiedo un parere prima come giurista e poi come sacerdote realmente DTL Zan potrebbe comportare il problema noi cristiani nell'annuncio del massaggio evangelico in toto guarda io sto seguendo il dibattito su questa cosa in maniera molto molto marginale perché dicono persone molto molto autorevoli anche la CEI si è pronunciata con una certa preoccupazione che alcuni passaggi porrebbero come dire delle possibili limitazioni alla libertà di espressione ho letto qualche articolo da parte di fonti come dire vicine favorevoli che relativizzano minimizzano cioè non è affatto vero non succede niente a destra e a sinistra io dico sempre che se si fanno non ho letto questo testo insomma perché chi devo parlare su queste cose sono quelli che stanno in Parlamento per ora certamente io faccio mie tutte quante le motivazioni di preoccupazione e di protesta ho anche retweetato sul mio profilo twitter insomma qualcosa qualche messaggio da parte di chi sta un pochino preoccupato e io condivido insomma le preoccupazioni io diciamo da un punto di vista generale non non mi sembra che in Italia ci siano fenomenologie tali di questo genere anzi c'è una grande apertura insomma nei confronti anche di un certo di un certo mondo nella come dire persuasione che per l'esistenza del libero arbitrio è possibile per del libero arbitrio quindi è possibile alle persone fare le scelte che maggiormente ritengono opportune certamente prendendosi le loro responsabilità e non per questo dovendo comunque essere oggetto di atti di discriminatorio di violenza o cose di questo genere io non cioè già dicono i giuristi che tutto questo è già ampiamente contenuto e io sono d'accordo nei principi generali dell'ordinamento se uno dovesse fare delle formulazioni legislative ambigue che cosa succede che la formulazione legislativa è ambigua poi dipende dal magistrato che la applica e se trovi un magistrato che vuole andare a fare come dire un'applicazione come dire severa nei confronti di una denuncia verso qualche persona se gli dà lo strumento può farlo e può metterla in un guaio quindi più di questo io lo star a attuare non posso dire però certamente noi figli di Dio vedo la mobilitazione che c'è insomma in giro le sentinelle in piedi e tutte quante queste cose qui certamente fanno e danno motivo insomma di di pensare non poco noi preghiamo e speriamo che queste cose non vadano in porto perché la verità non può essere deve essere detta bene a tempo in luogo opportuno deve essere detta la verità sostanziale quindi noi parliamo di valori quindi diciamo questo è bene questo è male quindi condiamo il peccato non il peccatore ecco dobbiamo chiudere perché la diretta sta per terminare alla prossima Ave Maria